Gentili telespettatori, buona giornata. Questa ve la devo raccontare perché è l'assurdo dell'assurdo. Vi ho detto già da parecchio tempo che i giornali raccontano balle, sia a sinistra sia a destra. Il fatto è che quelli di destra sono molto attenti alle balle sui giornali di sinistra, ma i giornali di sinistra di guardare le balle che dicono quelli di destra non hanno voglia e quindi si continuano a vedere sui giornali di destra la Repubblica ha detto una balla, la stampa ha detto una balla, che è anche vero, ma anche quelli di destra ne raccontano tutti i giorni. Ci sono degli articoli fuffa che dal titolo vi fanno capire che c'è stata una certa cosa, voi aprite l'articolo, lo leggete tutto e dite ma questo mi hanno preso in giro, mi hanno fatto leggere l'articolo prendendomi in giro col titolo. Il fatto è che il giornale di destra o di sinistra non ti vuole prendere in giro, l'intenzione non è prenderti in giro e farti credere una cosa per un'altra, ma il giornale di destra verso gli elettori di destra e il giornale di sinistra verso gli elettori di sinistra gli fanno credere che è successa una roba particolare in modo che il loro elettore apre l'articolo per vedere cosa è successo e poi non è successo niente. Perché questa roba di fargli aprire l'articolo? Perché aprendo l'articolo si aprono almeno lateralmente in mezzo 10-12 pubblicità e funziona come i video. Più visualizzazioni, più gente che apre l'articolo, più soldi arrivano al periodico, al quotidiano eccetera eccetera. Quindi c'è la sagra ogni giorno di balle per far sì che i loro lettori di destra e di sinistra aprano quegli articoli e si vedano le pubblicità che poi pagano un prezzo al giornale. Quindi non c'è davvero l'intento di fregare il lettore tanto per fregarlo o per fargli capire che la sua parte politica è migliore dell'altra. Quindi le bugie che raccontano non sono fatte per dirti guarda quel giornale lì che dice balle. No, è fatto solo con l'intento di farti aprire l'articolo e guadagnare sulle pubblicità. Ma torniamo all'apoteosi. Apro un giornale di destra che c'è scritto la Repubblica, il giornale della Repubblica, dice menzogne sul sondaggio, racconta che il PD è in recupero. Io apro l'articolo dicendo andiamo a vedere cosa ha raccontato la Repubblica. Questo giornale di destra dice che la Repubblica ha raccontato delle bugie su un sondaggio, ha raccontato la menzogna che il PD è in recupero. Fammi andare a vedere. Intanto io apro l'articolo e si aprono 12 pubblicità. E aprendosi 12 pubblicità per il fatto che io le ho aperte e per il numero di persone che come me le hanno aperte a questo articolo, quei 12 inserzionisti pagheranno una certa cifra al giornale di turno. Ok, vado a vedere dove la Repubblica ha raccontato sta bugia. Sono sempre i soliti, la bugia. E vado a leggere, ultimo sondaggio Utrend, Supermedia, c'è un quadro chiaro. Vediamo questa bugia, no? Fratelli d'Italia è cresciuto. Ok, rispetto alle elezioni. Va bene. E il PD, che ha cambiato segretario, scrive, ha guadagnato solo lo 0,6%. Ma non mi hai scritto che stava dicendo una bugia alla Repubblica. E poi dice, insomma, l'arrivo di Ellis Line non vale nemmeno un punto percentuale in più dopo la partenza di Letta al mese. Ok, ma dov'è la bugia di La Repubblica? Ma poi dice, come La Repubblica presenta i dati, bisogna sottolineare che c'è qualcosa che non va. C'è qualcosa che non va. Nella narrazione progressista. Nel titolo si legge, il titolo di Repubblica era questo. Crescono Fratelli d'Italia e Movimento 5 Stelle. Crolla Forza Italia, recupera il PD. E questo giornale di destra dice, la menzogna. Hanno scritto che il PD recupera. Ok, andiamo a vedere allora questa roba qua. Andiamo a vedere e c'è scritto, il PD è al 19,7%, è cresciuto in una settimana dello 0,1%. E dov'è la menzogna? Il PD ha recuperato uno 0,1% e La Repubblica ha scritto la realtà. Per una volta che scrive le cose come stanno, ha pure scritto che Fratelli d'Italia cresce. No, crescono Fratelli d'Italia 5 Stelle. Crolla Forza Italia e recupera il PD. Il titolo è assolutamente corretto. Il PD recupera uno 0,1%. Dov'è la menzogna? Avete capito a che livello siamo arrivati? Siamo arrivati al livello che il giornale di destra dice una bugia raccontando che l'altro giornale di sinistra ha detto una bugia. Avete capito, no? Il giornale di destra dice una menzogna raccontando che il giornale di sinistra ha scritto una menzogna. Vai a vedere, non c'è niente di vero. Tutto questo per far sì che si aprano... Adesso vi dico quante pubblicità si sono aperte aprendo questo articolo fuffa, proprio fuffa, fuffa, fuffa. Allora, si è aperto una pubblicità, due, tre, poi, 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 quattro, cinque, sei, sette, sette pubblicità. Si sono aperte sette pubblicità. Cioè io, che faccio questo lavoro di commentare, sento Repubblica le menzogne sul sondaggio, vado ad aprire e leggo e mi accorgo che le menzogne sul sondaggio non è vero, è una menzogna dell'articolo che parla di menzogne di un altro giornale, è una roba da andare fuori di testa. Poi, scusate, come fanno poi questi giornali ad avere credibilità. Ma quale credibilità possano avere? E poi è anche comprensibile quando qualcuno di voi dice, ma quella è una notizia falsa, eh? Ma perché poi questi giornali ti raccontano delle notizie? Tu ci credi, perché non è che hai la possibilità di verificare. Perché quando poi un giornale ti racconta la balla, ci sono altri giornali che riprendono la balla e la moltiplicano. E tu dici, l'hanno scritto cinque giornali famosi e invece poi è una balla. Parte come una balla e si diffonde. E chi legge quali strumenti ha per verificare se è una notizia falsa? Nessuno. Nessuno. Grazie a tutti e arrivederci a presto.